Subito una partita e giochiamo Allora, vediamo Vediamo che c'è oggi nel negozio Non ci gioco da una vita ragazzi Però sono ancora un po' bravino Ci ho giocato un po' ieri Però Dai, non sono male adesso Però Dai ragazzi E come va la giornata? Ah dai, quando inizio sta... Oh ragazzi, adesso sta iniziando la partita Dai, spero che Va tutto bene Faremo un botto di kill Speriamo, ma ragazzi Qua siamo messi male Il problema è che sulla play È lento Taglie ragazzi No ragazzi Lo schermo è piccolissimo Vabbè dai Ce la cambiamo così Non ci gioco da una vita Scusate raga Calcio incredibile Vabbè dai No raga Non so proprio giocare Mi sono dimenticato come si gioca a questo gioco Non ci gioco mai Però Ue raga Ue raga Come state? Tutto bene? C'è uno spettatore Raga Come stai? Dai raga Allora Adesso atterro Con lo seo Oh Ma che è? Non ci indicavo con il R1 prima? Oh che è? Ma questo gioco l'hanno modificato Non capisco più niente Beh Atterriamo Non so sto posto Non c'ha Oh ma così si apriva la mappa prima Ah ok Atterriamo in questo posto Ma beh non c'ha un nome Però vabbè Dai andiamo qua No raga c'è gente Eh occhio Vabbè atterriamo in un'altra parte allora Andiamo qua Forse Vabbè dai Sto posto mi sembra Non fa cagare dai Andiamo qua No c'è gente lo stesso Eh che cavolo Vabbè atterriamo qua Vediamo se troviamo qualcosa Vedo qualcosina Qua C'è già gente da Quella parte Anche dietro Quindi Quindi se ci sbrighiamo Dai solo munizioni ci sono qua Raga io Cioè faccio un po' schifo sulla play Ci gioco da una vita Raga la sensibilità è altissima L'ultima volta mi ricordavo che era bassa Adesso è alta Mamma mia Mi devo abituare Mi devo abituare Non c'è niente Vediamo No qua dentro non c'è nulla Speriamo che Troviamo qualche Edificio Subito Troviamo delle armi Dai Andiamo a trovarle Ok là c'è un bot Mamma mia Andiamo qua No cacchio La mia vita Che non gioco Cacchio sensibilità è altissima Raga Come si fa a giocare Guardate Mizzaca Devo modificare un po' La sensibilità Oh no che schifo dai raga Meno la mitaglietta Un pompa Preferirei più il pompa Però Non c'è qua Ma Qua vediamo All'altro No niente Fermiamo un po' Vediamo Andiamo a questo edificio Vediamo se troviamo un pompa Con questa pistola Non posso Non posso campare Ok Legna Qua Bene 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 No perché non ho preso questa pistola Dai fa niente Ma raga che servono Sti ringotti d'oro Mannaggia Cioè le trovo da per tutto Però Non so che servono Devo informare Annaggia c'è qualcuna Vediamoci subito sta cosa No avrei un pompa raga Sono morto Sono morto Vado qui dentro Speriamo che Uh un pompa Cacchio Tattico Uh apri Allora Papà togli sta lifer Ok Mitaglietta e pompa raga Assalto Guarda Subito lo prendiamo No Ok Stare il medikit Va benissimo Uè Come stai bro Due spettatori Incredibile Allora beviamo anche questa C'è gente Dai Allora prima c'era un tizio Ma vediamo Se forse c'è ancora Non lo so Vediamo subito Raga la sensibilità è altissima Cavolo Andiamo a pushere questo Però non so dov'è Penso qua In questa casa In questo edificio Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Allora c'è un tesoro Ma sta qua davanti O sta sotto 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 penso No Non sta sotto Qua ci sta qua Niente Ragazzi Oh finalmente Ok Una Una carta Non lo so Usare la carta C'ho l'M L'M4 Però O l'M16 Non so Uh no Una K Pensavo un'M16 verde Un'M4 Che cavolo No aspetta Questa miglietta Ah la stessa Pensavo L'altra miglietta C'era anche Vabbè dai C'è una carta Qua Capriamo subito Tattico verde Vuela Me la lascio il medikit Il cerchino Mi serve Ok Parmiamo un po' Parmiamo un po' Ok Uh Ah no Pensavo fosse un pompa Raga Andiamo insieme No vabbè raga Quanto siamo lontani Dobbiamo trovare una macchina Se non moriamo qua Dov'è Niente Nessuna macchina Manca una barca Un motoscavo Motoscavo Niente Nulla 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 Dobbiamo andare a piedi Allora Cavolo Sta vicino a me Un casino Ma come facciamo Moriamo Oh raga C'è una macchina Dai vabbè Dai Prendo un po' di vita Meglio di nulla Qua Vicino Sta qua su Spero che vada veloce Sta macchina Oh raga Andiamo 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 Subito No ma è lenta Oh raga Ma non è che è così lenta Miseramente Ma raga Ma è che è così lenta C'è una macchina Più veloce Non è che è una gomma Una gomma parata Vabbè dai Cerchiamo di arrivare in safe Così Non c'è carburante No Non c'è carburante Raga Andiamo a piedi C'è un tizio là Saliamo Dai No 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 Miser Aspetta qua Sta qua Sta sotto 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 le scale Non lo so No raga Sta qua L'ho visto Eccolo Oh raga Ok A casissimo Va benissimo Cambio subito Mi sta midaglietta Mi fa schifo Andiamo questa qua Andiamoci Penso che era un bot Raga Però Non ne sono sicuro La band è qua Non so se servono Adesso No c'è un tizio Minza Non c'è Sta qua Raga Raga Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Penso che questo Non è un bot Però Non ne sono sicuro Slurp Slurp Se ritroviamo La macchina Siamo a posto Però Non penso che Non ci sia nulla Vabbè Va bene anche Un motoscafo Non c'è Non c'è Non c'è Un motoscafo Non c'è Un motoscafo Raga Stiamo andando bene 17 persone Mancano Però C'è Non benissimo C'è un tizio là Mi ha visto Mi ha visto Raga No cacchio Come l'ho smirato Come l'ho smirato Come l'ho smirato Dov'è Cacchio raga Quanto matto Vediamo un po' Intanto io sto in safe Diciamo Sono quasi in safe No sono in safe No ecco Stavendo Stavendo No raga No cacchio Anche dall'altra parte No raga Sta scendendo questo Dov'è Oh raga Dov'è Sta curando Ma dove Qua sta No raga Non ci credo Non ci credo Faccio schifo Si è curato Un posto più affollato Andiamo Lago Languito Non lo so Vediamo che c'è Andiamo Dopo vediamo Oppure Borgo Bislacco Non so se c'è ancora Non mi ricordo Borgo Bislacco Corso Corso Commercio Oppure va bene Anche parco Pacifico Andiamo Connessione in corso 10 anni Ok Allora andiamo Allora andiamo Dove andiamo Come si indica Con Prima si indica Con R1 Non so perché Non ho cambiato Allora andiamo A parco Allora No Parco Pacifico Corso no Borgo Bislacco Così è diventato Che è successo Borgo Bislacco Vabbè dai Andiamo a parco Pacifico Vediamo Wey Ciao Siamo in due Di nuovo Come stai bro Stiamo facendo sempre Una martiglia Forte Andiamo a parco Pacifico Ciao Hello Hello Andiamo a parco Pacifico Wey Ciao Swim Andiamo qua Dai Mizzera Quanta gente Raga Ciao 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 Siamo qua Come state Bro Dars Ragazzi C'è tu like Per favore Vedete tutta la live Che Secondo me è interessante Dai Ragazzi Che servono Stingotti D'oro Ragazzi Siamo in tre Come state Bro Dars Una k O beh dai Questa ce la facciamo dopo Oh no C'è qualcuna Vediamocela No No Entra Per poco Ragazzi Ah con la k Ho sforato Mamma mia Ce le bende subito C'è qualcuno Qualcun altro C'è uno con l'aereo Mi skin preferita Ehm Mi skin preferita Mmm Ce ne sono molte Però penso Alla col De pass battaglia La stagione 5 Ragni rock Quella mi piace Un botto La tua Qual'è Inizia Mamma mia Sistemiamo Alla No non c'era Avevo visto un'altra cosa 5 persone Ma che vogliono Da me Lo spremo col botte Che se no mi uccide A me Garba Scudi Blu Season 2 Ah bella Quella skin Però io ci gioco Sto giorno Prima ci giocavo Dalla stagione 4 Poi io ho smesso Più o meno Al cap Alla La stagione 1 Del capitolo 2 Aspetta Però è bella Quella skin L'ho vista L'ho vista su youtube C'è qualcuna L'agra qua Non sta sul tetto Sta qua sotto Oh ma che è Forse un botte Che è Penso che è un botte Ah botte Un botte Un botte Penso Prendo questa Vabbè dai Ugua Non cambiamo nulla Sinceramente Sto facendo un po' schifo Perché comunque Ho smesso di giocare Sulla plane Meno male che c'è l'automia Che mi aiuta No 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 Un altro botte Mizzero 104 Accasissimo Bro Mizzero Ah un altro Pensa che un boff Un boff No Un botte Anche però Ah E che adesso giochi ancora Cioè io Sto iniziando un po' A giocare a fortnite Però Di nuovo Però Non è sto granché Pensavo che fosse Migliorato Dopo tutti questi Aggiornamenti Però Vai Fa niente Cioè rispetto Cioè prima Ho abbandonato il gioco Perché non mi piaceva Tipo al capitolo Al capitolo 2 Della stagione 1 Allora ho cambiato Un bel po' di cose Tipo alla grafica Anche adesso Cioè Non è che è cambiato molto Dalla stagione Dalla stagione 1 Però Ah Vabbè Ci sta ogni tanto Di giocare I giochi Che Vecchi Però Prima Per esempio La stagione 6 La stagione 5 La stagione 7 Erano le migliori stagioni Per me Anche la stagione 3 No Anche la 4 Vabbè quasi Però Tipo per esempio Dal 9 Non mi sono piaciuta Capito Quale è la tua stagione Per vita Del capitolo 1 Penso Che Ti piace Penso le prime Perché Erano le più classiche No raga Forse devo andare in safe C'è qualcuno Ma Ah Alla sta No Che smircio No raga No Dov'è Sta sotto Oh Fatti prendere Mi inizia Anche a me Più o meno È iniziato Dalla stagione 8 Comunque Che Stava iniziando A essere un po' Più brutto Però la 9 Faceva un po' Cioè Faceva più cagare Dalla stagione 8 Peccato Perché hanno messo Delle armi Allora Certe armi Ero troppe OP Oppure erano Buggate Però Per esempio Nelle prime stagioni La 2 La 3 Erano le migliori Perché comunque Le mappe erano Comunque Senza Troppe costruzioni Strane Però La stagione Non c'erano Troppe eventi Come Cioè Non so manco Che cos'è sta cosa Davanti a me Buono Non so Non sono aggiornato Con gli eventi Però prima Non c'erano tanti eventi Era più bello Secondo me Andiamo in safe 5 kill Dai Vabbè Secondo me Erano tutti i bot Tranne l'ultimo Gli ultimi due Per il resto Secondo me Erano tutti i bot Ah si Pinnacoli Mamma mia Aspett Però Hanno messo alcune Hanno rimesso alcune costruzioni Però un po' distrutte Raga P104 Mi rubate la kill Ok Aspett Ok Comunque Cioè Dalla 8 Porta l'intenizzato A fare schifo Però Dico comunque Rimasto C'è rimasto qualcosa di bello Comunque Però Magari facessero un aggiornamento Dove Tipo tolgono alcune No Rifanno tornare Alla vecchia mappa Magari Ci giocherebbe un po' di più Questa mappa fa un po' schifo Cioè No fa schifo Non è che fa un po' schifo Ah Bosco Bellaterante Pensavo Pinnacoli Ma Pinnacoli Da quando Cioè Che stisa l'hanno tolta Non mi ricordo Penso La otta anche No Anche a me piaceva Bosco Bellaterante Però mi sono dimenticato Proprio dell'esistenza Ah si Quello del buco nero Ma che si ricorda Raga No buco nero Era il season 10 No ma Ma raga Non mi ricordo nulla Penso che era Season Allora quando Ah no Spera Non mi ricordo Che vento c'era il season 8 Ah il vento del vulcano Inizia Che si ricorda Da che si sono giochi Dal Dal 1 A dal 2 Io ho iniziato Dal 4 Cioè Cioè Diciamo Ho iniziato A metà Si sono 4 Però è uno scarso Proprio come Lo schifo Ho giocato Iniziato Seriamente Verso la season 5 Più o meno Poi Non lo so Cioè Giocavo anche 6 ore Massimo 7 8 Non mi ricordo Ci campavo In questo gioco Prima Perché era bello Comunque Ci giocavano un botto di persone Adesso non sta giocando Quasi nessuno Ah Mi inizio Tranne per esempio Tfue Vabbè Quelli vengono pagati Per giocare Ma questa è pin Ragà Ma questa è pinnacoli Più o meno Sì Questa è pinnacoli Cioè questa dora è di pinnacoli Questa No ragà Secondo è in safe It's Tre mesi Cioè Non ti faceva aggiornare il gioco Oppure ti andava lento L'aggiornamento Strano Tre mesi comunque Io ho iniziato Cioè Sì Te l'ho detto già Che hai iniziato Alla 4 Più o meno Più o meno A metà Stiamo in safe Ah non ti facevo aggiornare il gioco Vabbè I soliti errori di No penso che questo errore Di Sony però Non lo so Nella play Non penso del gioco Non so che errore Però Vabbè Aspett Aspett Dopo Dopo ti dico No 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 Raga Mannaccia Puglia Lecce Tu C'è un'altra partita Bella Firenze Un giorno Penso di andarci Facciamo un'altra partita Ah no Dovevo fare Vabbè Questa partita Poi facciamo creativa Facciamo qualche mappa Questa volta Atterriamo Ah che Molimolesti Non capisco nulla Grazie bro Se vuoi Non so se Forza anche io Devo mangiare fra poco Però Comunque grazie Per l'iscrizione Mi iscrivo Poi mi iscriverò Anche al tuo canale Ma Fai video su youtube Anche Sì sì Poi ti mando la richiesta Anche Dopo sta partita Penso Ti mando Io ti mando la richiesta Che tipo di video fai? Le play Blog Log Ma Vabbè Metteremo qua C'è sto uizio qua Dopo mi iscrivi al tuo canale Comunque Ah vabbè Voi Vedo dei video tuoi Lascio like Vabbè Il nome Aspetta Dove te lo posso far vedere Cioè devo quittare Penso Aspetta Ah ecco In alta sinistra C'è scritto Si legge Ma tu vuoi Cioè Questo Questo Nick che mi hai dato Il nome Il nick Della Della play Cioè Della playstation network Oppure Il nick Di epic games Nick In questo Ah ok Ah Dammi quello di PSN Poi ti mando la richiesta C'è qualcuno Sì ma Vabbè dai Ma te lo mando Dopo questa partita Però Tu stai da Da computer E dal telefono Cioè stai guardando Questa live Da computer E dal telefono Cioè stai dal telefono Aspetti Che finisce Questa partita Poi Vedi che Ti mando la richiesta Dopo Beh porta al tavolo Poi abbassa il volume Poi non so No ragazzi C'è gente qua C'è sto shieldone qua Allora Allora Aspetta che Quinta la partita Ah no Aspetta Forse c'è scritto qua Ecco Aspetta Ecco Quello in alto a sinistra È il nome di epic No non è di epic Aspetta E PlayStation network In alto a sinistra Perché Adesso non posso scrivere in chat Segnatelo Così poi Puoi mandarmi la richiesta Ah E Allora aspetta Quinta sta partita Magari la faccio vedere C'è scritto Qua Davanti Al centro Ecco qua C'è scritto Amin 257 Guardi Riesci a leggerlo Allora Segnati Quello che ti Sì sì Allora Allora Segnati Allora A M I N S H 2 5 E 7 Hai scritto? Sì sì Però L'A è minuscola Sì sì La minuscola però Ok 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 Allora S X X 20 6 Ok Un giro amico Questo sei tu Penso di sì Ti ho mandato la richiesta PSN Ok Vabbè poi Non so Un giorno Giochiamo insieme Va bene Dìmi Sì 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 Ok vabbè Va bene va bene Ciao bro ciao bro Guarda per l'idea Beh ragazzi adesso stiamo facendo una partita Cioè facciamo una partita creativa Facciamo winter o holiday advent Non so cos'è Allora qua Se c'è tipo Un find qualcosa Un find the button Però non so se c'è su fortnite Def run Vabbè dai Facciamo questa raga Ah è vero Ok Ah in group 16 persone Non avvia la raga Oh ok Facciamo Sta partita Penso di giocare con altre 16 persone O da solo Non lo so Però vediamo Ah non c'è altre persone Va bene Però penso che No non penso un cavolo Raga 75 persone Quella Alte persone Unitevi Raga Mostra il dettaglio Quante persone Tre persone Devo aspettare E poi facciamo Steff run Due persone Dai raga Se giocare sta partita 14 secondi Dai E poi facciamo Steff run 8 persone 7 Ok Ok No In 11 Vabbè dai è meglio Così non lo Però faccio un po' schifo Nelle def run No Dai eh Bene Bene Ho qua No raga Questa l'ho già fatta Comunque 100 volte L'ho fatta No Io aspetto 100 volte 100 volte L'ho fatta Però Vedo se Allora cosa Ok Checkpoint No mi dice niente Ok 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 Ah Francesco Lì Ah sei la mamma Ciao Sì va bene Va benissimo Se vuole Come stai io? C'è Francesco Ah va bene però Aspetta Tengo come amico Stai giovando Ma non sei online penso Qual è il tuo nick? Ah vabbè accendi la play poi giù Ah vabbè E quando? Quando vuoi? Ah vabbè Come stai Francesco? No Ah vabbè vabbè Come va con la scuola? Oh ce l'ho fatta Finalmente Ammi il checkpoint per favore Cioè No sono tornato indietro Ma raga No vabbè Aspetta aspetta Voglio suicidarmi come si va No 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 Cioè come ha fatto Cioè sono tornato indietro Come è possibile Ragazzi Non ci credo Ma com'è che sono ritornato qua Dai Non ci credo Tu sei andato a scuola Cioè prima delle vacanze Sei andato a scuola O stavi in dog No 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 ah io mi ho invece indotto però non so se il 7 ritorna a scuola o cosa non lo so penso a scuola non lo so dipende mi sono dato un botte di compi perché sto tornando indietro no ah cioè quindi pensi di tornare a scuola mi è invece vabbè sì penso anch'io non lo so dipende penso forse non lo so e i tuoi compagni vanno a scuola mannaggia ma resta mi è andato ah quindi video lezioni ti distrai però nelle video lezioni aspetto se va a scuola secondo me è molto meglio no 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 ok va bene si lo so lo so stai con allora penso eduardo e leonardo nicole francesco blasi l'orica bianco non mi ricordo più questo con questi Ah, invece io Cioè, no, nessuno è venuto Nella scagna Aspetta Beh, è bello restare con i vecchi amici Se tutti hanno mirato sono andati Lo scipione No Anche io volevo andare Lo scipione, però Però sono dovuto andare Alla scagna No No Qui adesso non puoi giocare No Ah, va bene, va bene Vabbè, quindi giochiamo domani alle 6, no? Quanto vuoi giocare? No, già Vabbè, va bene, un'oretta Quindi Andiamo alle 7 a giocare più o meno Eh, già No, questo livello è troppo difficile Oh Sto qua Aspetta Meglio Ok Diciamo Dove hai faccio un po' di coppia, no? Oppure che la diva Vabbè, dai Poi facciamo tipo 20 minuti o 10 minuti creativa Per Per scaldarci all'inizio No Poi facciamo coppie E Iniziamo Comunque, bravo Ci gioco da una vita Cioè Sono un po' scarso Ho inventato Ho inventato un po' più scarso Ok Mi inizia, ma Sta parte è troppo difficile Ok Aspetta 3, 1 Mi inizia, caro Andiamo a questo Una volta sola No Tu ci stai giocando In questi ultimi giorni Ah, io no Cioè Non mi sta piacendo Ultimamente Gli ultimi giornamenti Fanno un po' Cioè Fanno un po' schivo E Un po' schivo No Un po' schivo Un po' schivo Sopriamo questo livello Ah vabbè Io non ci gioco Cioè non ci gioco molto però qualche volta Mi sono menti che c'è stata rappola sopra Ma poi gli hanno aggiunto lingotti d'oro Cioè devi trovare questi lingotti d'oro Non ci ho capito benissimo però Penso che è una fesseria sta cosa Ma no sta trappola Ah per favore Ah è vero Con quei botti che trovi Dentro gli edifici Che costa di commercio Armi Scudi E quanti lingotti servono Più o meno Cioè per avere un'arma Ah Aiuto a mamma mia come fai trova una vedrò un minimo cioè il massimo tipo 50 non mi ricordo ciao jasmin scusate la pronuncia ciao prima erano più costose hanno fatto un aggiornamento dettagli cioè ah 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 no ah come su warzone cioè più o meno più o meno cioè ti dicono per esempio ti indicano su una mappa chi deve uccidere un nome ti dicono se ti danno un nome per esempio poi tu devi uccidere con una determinata persona oppure devi uccidere bot ma non le faccio mai queste missioni tanto non c'ho il pass cioè no in realtà serve per le armi però non so se ti aiuta anche ok con il pass manna ok aspetta ah 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 hai comprato il pass però in questa stagione ok ah 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 ma io no perché tanto cioè non gioco molto cioè se proprio cioè se proprio devo devo comprare il pass devo giocarci un bot per esempio cioè prima ci giocavo un bot per esempio al sito 5 4 la 6 la 7 e quindi io ho comprato il pass ma ah ah quindi non l'hai comprato il pass per esempio per esempio il pass è il pass il pass il pass il pass il pass è il pass è Ah ok Quindi questo l'ho acquistato Cioè tipo No No ci rinuncio basta Prima Giocavo un bot a questo livello Poi ho smesso Non lo trovavo più Anche se mi potevo salvare il codice Vabbè ragazzi Io dalla season Dalla season 1 Della capitolo 2 Più o meno si Vabbè ragazzi Elia vabbè Tutti Vabbè Cioè vi lascio Ci vediamo alla prossima live Elia domani giochiamo no? Ok Va bene Elia A domani Ciao ragazzi Ciao a tutti Grazie.